La IGAP S.P.A. è un'azienda italiana, Mantovan, con oltre 60 anni di storia e si occupa di produzione e commercializzazione di mobili da giardino e da interno. La sede produttiva sono 120.000 metri quadrati, di cui 75.000 coperti ed è localizzata a canetto sull'olio. Fino al 2005 la IGAP si occupava solo della commercializzazione dei prodotti. Poi da 2005 ha acquisito la produzione ma l'aveva terzializzata, mentre nel 2014 siamo entrati direttamente in produzione. Abbiamo capito quali erano le esigenze, il software che avevamo non soddisfuava una gestione della produzione soddisfacente del magazzino e quindi è nata la necessità di implementare e poi abbiamo deciso di prendere NAV e 2020 c'è stato l'inizio un collage. Toxist noi lo utilizziamo dal 2006, abbiamo circa 10.000 referenze tra prodotti finiti, semi lavorati e l'implementazione e l'interfaccia con NAV è stato uno dei punti cardine del progetto. Difatti la necessità era quella di effettuare registrazioni di produzione più veloci, difatti adesso siamo praticamente in live con la registrazione di produzione. Il VMS è integrato con NAV, gestisce tutto quanto dall'ordine di produzione fino al posizionamento del prodotto in spedizione. Abbiamo lavorato tanto prima del go live, si è creata subito un'empatia perché tutti lavoravamo personale in auto dalla stessa parte senza tant'imata che e come, quindi c'era un problema dai che lo risolviamo tutti, che a tre anni di distanza non si è stata nessuna modifica di progetto di struttura database, come solo abbiamo implementato e continueremo a implementare.